salve ragazzi faccio questo flash video per segnalarvi che in questo momento è in diretta un intervento su facebook c'è una diretta facebook la bitcoin valley trentina in parlamento opportunità per l'italia io la sto seguendo se non riuscite a vederla diciamo in diretta sicuramente la potrete vedere in un secondo momento in differita vi lascio il link in descrizione è molto 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 interessante vi consiglio vivamente di vederla tutta o comunque cercare di seguire qualche pezzo perché dicono cose molto importanti molto interessanti anche per il panorama italiano